Ciao a tutti dal salutatore, grandissima sorpresa, One per voi, salutiamo tutti i fan di One e di BimBumBam Ciao a tutti da One, a tutti i fan di BimBumBam e salutiamo ovviamente anche il grande Paolo Bonolis, Manuela Branschart e Marco Bellavia Ciao e auguri di buone feste natalizie, ciao da One e da me il salutatore, ciao!